Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la trasmissione Magia, Stragonaria e Paganesimo di oggi 30 ottobre 2007. Nella trasmissione di oggi riprenderemo quello che è il discorso relativo alle istruzioni agli apostoli dati da Gesù in Matteo ed essenzialmente faremo due argomenti ed è Matteo 10.9.10 e Matteo 10.11.15. Nella prima trasmissione abbiamo parlato della prima parte delle istruzioni di Gesù agli apostoli, non andate fra i gentili e non entrate nelle città dei samaritani, andate piuttosto dalle pecore perdute della casa di Israele durante il viaggio, predicata dicendo il regno dei cieli è vicino, guarite i malati, risuscitate i morti, mondati i lebrosi, scacciati i demoni, gratuitamente avete avuto gratuitamente date. E questo è Matteo 10.5.8. Passando invece alla seconda parte, in Matteo 10.9.10 abbiamo non prendete né oro né argento né monete dalle vostre cinture né bisacce da viaggio né due tuniche né calciari né bastone perché l'operaio merita il suo nutrimento. Queste istruzioni date da Gesù attraverso Matteo, date da Matteo in pratica, sono dei veri e propri atti di guerra alla società civile che hanno lo scopo di disarticolare quella che è la struttura sociale per sottometterla al dio dei cristiani. E' interessante questo passo che indica la doppia funzione. Voi che predicate, dice Gesù ai suoi apostoli, siete i miei schiavi. Gesù dice affinché la gente diventa mia schiava deve vedere che ogni vostro intento è dettato solo dal desiderio che ella diventi mia schiava. Cioè non dovete avere intendimenti diversi, non dovete usare la mia ideologia, il mio modo di pensare, il mio modo di essere e la mia predicazione per avere degli scopi diversi da rendere schiava alla gente. Cioè se voi predicate, chiedete alla gente di sottomettervi a me e avete il desiderio di diventare ricchi, di fare soldi eccetera. Chiaramente la gente vede che questo è un atteggiamento strumentale. Pertanto come voi siete i miei schiavi, cioè quelli che devono dipendere da me e quello che devono fare la mia volontà, così affinché la gente diventa vostra schiava non dovete avere nessun altro desiderio al di fuori di far schiava alla gente. Non devono trasparire dei desideri vostri di benessere o di ricchezza. Dovete raccogliere una massa di miserabili e dovete avere interessi da miserabili affinché i miserabili siano convinti a diventare i miei schiavi. E questo è il senso del messaggio di Gesù. Non prendete né oro né argento né monete alle vostre cinture. Perché quando Gesù sta parlando non sta parlando di una società a critica, cioè nel senso di una società che ha già soggettivato a livello di manipolazione mentale la sua sottomissione a lui e lo ritiene il padrone del mondo, ma sta parlando a una società che invece ha una forte capacità critica nei suoi confronti. Una società che non ha subito ancora la manipolazione mentale sui bambini, per cui non dipende assolutamente da Gesù e se voi sbagliate, dice Gesù, i suoi apostoli, i passi, non possiamo trasformarli tutti in schiavi da me. Dopo in un secondo tempo, quando avrete conquistato il potere, quando avrete costruito l'incapacità dell'analisi critica nelle persone, allora potete fare quello che voi volete. In compenso, dice Gesù, intanto non abbiate niente, però li potete rapinare. Andate con nulla e appropriatevi del loro. Voi, dice Gesù e i suoi apostoli, avete diritto al vostro nutrimento. Per cui, dice Gesù, voi le persone le potete rapinare in funzione dei vostri bisogni. Si tratta, in sostanza, di mettere il predicatore nella condizione di fare del male, per assicurarsi la sopravvivenza e continuare a predicare. Una tale pratica l'abbiamo vista in America Latina, dove i missionari cristiani macellarono e rapinarono gli indios perché loro avevano il diritto al loro nutrimento, ombre del glorioso processo di distruzione delle società latinoamericane. Così Ratzinger ha definito l'olocausto degli indios nell'America Latina. La stessa cosa avviene in Africa, quando i missionari cristiani trafficarono, avevano, i gesuiti avevano addirittura una compagnia navale per trafficare in schiavi verso le Americhe. Ed è, questa attività era ammessa nella dottrina cristiana, era voluta dal Gesù dei cristiani, proprio perché i gesuiti che predicavano Gesù avevano diritto al loro nutrimento, cioè avevano il diritto di commerciare in schiavi. Nutrimento che naturalmente non deve essere inteso soltanto come il piatto di minestra, come i missionari e come i cristiani tendono ad imporre alle persone civili, no? Cioè, questi poveracci che muovono di fame bisogna dargli il piatto di minestra, ma deve essere inteso come compensatore dei bisogni a cui il predicatore ha rinunciato. Per cui il predicatore ha il diritto di rapinare oro, argento, monete, cinture, tuniche e calzari per mantenere la sua predicazione. E vedremo come, proprio all'interno di questa ottica di questo insegnamento di Gesù, avviene anche spesso la violenza dei bambini ad opera dei preti cattolici. Cioè, in pratica, il prete cattolico ritiene che violentare il bambino sia ciò che egli merita come nutrimento, cioè come compenso del suo lavoro nei confronti dei bambini. L'oggetto che deve essere predato per Gesù deve essere l'uomo. È l'uomo che deve essere posseduto, non il prodotto delle mani dell'uomo. Per la prima volta nella storia appare il potere di avere, il potere del possesso. L'oggetto che deve essere rapinato è l'uomo. È l'uomo che deve essere costretto ad entrare nell'ovile, a considerare se stesso un oggetto posseduto dal Dio padrone e da suo figlio Gesù. Cioè, per la prima volta noi nella storia abbiamo che gli uomini non vengono più rapinati per portargli via cose, terreni, case, potere, soldi o quant'altro, ma per la prima volta nella storia con l'avvento del cristianesimo noi abbiamo l'annientamento dell'uomo in quanto l'uomo va annientato. Cioè, non è più l'esercito di Giulio Cesare che va a distruggere la Gallia perché vuole rapinare i Galli e portargli via tutte le loro proprietà. Qui ciò che deve essere rapinato per Gesù è l'uomo in sé stesso, la sua anima, la sua passione, il suo modo di vedere il mondo. Infatti è per questo che Ratzinger insiste molto sul fatto che le persone non hanno il diritto a lasciarsi morire. Perché se le persone si lasciano morire lui non gli può più rubare l'anima, non può più privare quelle persone della loro psiche e del loro modo di essere. E fa parte sempre degli insegnamenti di Gesù in queste istruzioni agli Apostoli date da Matteo. L'uomo costruisce gli oggetti per sé, ma Gesù non vuole gli oggetti dell'uomo, vuole l'uomo, vuole distruggere la sua esistenza. Gesù vuole distruggere la ricchezza, ma non per disprezzo del lusso, ma perché la ricchezza aiuta l'uomo a vivere, a soddisfare i suoi bisogni e nella formazione della ricchezza l'uomo esercita la propria volontà finalizzata a costruire il proprio benessere. È l'individuo l'oggetto predato da Gesù e tanto più l'individuo è misero, tanto più è facile predarlo. Non dice gli Apostoli che devono essere poveri, ma dice loro che non devono prelevare nulla di quanto hanno. Il non prendere né oro né argento non significa di non prenderlo in assoluto, di non possederlo, ma significa di non prelevarlo dal proprio possesso, dalla propria disponibilità. infatti dice di andare con nulla e di prelevare quanto serve il diritto al nutrimento dalle persone presso le quali si va a predicare, cioè derubare coloro presso i quali si va a predicare. Sono le pecore perdute che devono arricchire i cani da guardia di Gesù, i suoi Apostoli. D'altronde in quale modo Gesù si guadagna da vivere? Non lavora, non contribuisce allo sviluppo della società, si appropria dei beni della società in cui vive e chiede alla società di mettersi in ginocchio davanti a lui in quanto lui è il figlio del Dio padrone padrone egli stesso. La descrizione di Gesù nei Vangeli ci parla di un fanullone che gira per la Palestina imponendo agli esseri umani di mettersi in ginocchio davanti a lui e che sta per arrivare con grande potenza sulle nubi mentre le stelle cadranno sulla terra. La frase rappresenta il principio dottrinale per il quale i cattolici si sottraggono dai doveri che ad ogni persona impone la società civile e pretenderanno di essere mantenuti in quanto soggetti separati dalla società stessa. Soggetti separati soprattutto dalle leggi. Stuprano bambini ma pretendono di non essere processati per questo perché l'operaio merita il suo nutrimento. Le stesse affermazioni abbiamo avute di recente da Bagnasco e da Bertone a proposito delle tasse che si vorrebbe far pagare, cioè che l'Unione Europea ha chiesto di far pagare ai cattolici. E i cattolici dicono no, noi non dobbiamo pagare le tasse, siete voi che dovete pagare le tasse al posto nostro perché noi meritiamo il nostro nutrimento. Pensate a quanti poveri noi assistiamo, dimenticando che se è proprio il denaro sottratto dai cattolici che costruisce la povertà in Italia, la miseria in Italia. In Italia esiste un'assistenza sociale mediocre perché il denaro che servirebbe per l'assistenza sociale è usato per finanziare la Chiesa Cattolica e la sua attività avversiva finalizzata ad imporre la monarchia assoluta, pregando le persone del diritto ad aborto, del diritto a disporre del proprio corpo, del diritto di disporre del proprio futuro. E questa capacità di disporre del proprio corpo e disporre del proprio futuro noi la vediamo sempre tirata fuori dalla Chiesa Cattolica ogni volta che la Chiesa Cattolica deve salvaguardarsi dal fatto di essere messa sotto processo, di dover pagare le tasse, quando si mette in discussione il concordato, ogni volta che si accenna qualcosa voi vedrete sempre che la Chiesa Cattolica attacca ferocemente l'aborto per spostare il discorso. Cioè la Chiesa Cattolica proprio lei deve fermare l'aborto ma usa il discorso sull'aborto per nascondere tutte le sue infamità e tutte le sue iniquità. E questo è Matteo 10, 9, 10. E vediamo invece l'altra istruzione che Gesù dà agli Apostoli ed è Matteo 10, 11, 15. E dice In qualunque città o villaggio entrerete, informatevi se vi è qualcuno degno e dimorate presso di lui fino alla vostra partenza. Entrando nella casa salutatela e se la casa ne è degna scende la vostra pace sopra di essa. Ma se non ne è degna ritorni la vostra pace a voi. Se qualcuno non vi riceve ne ascolta le vostre parole, uscendo da quella casa o da quella città, scuotete la polvere dei vostri piedi. In verità vi dico nel giorno del giudizio il paese di Sodome e Gomorra sarà trattato meno severamente di quella città. Matteo 10, 11, 15. Questa istruzione è effettivamente micidiale come le altre e ha sempre lo scopo di costruire terrore, di costruire odio sociale. Provate un po' a ragionare su queste parole. Scenda la vostra pace, ritorni la vostra pace da voi. Scenda la vostra guerra, ritorni la vostra guerra da voi. Si tratta di una dichiarazione di guerra alla società civile, un'aggressione militare. L'aggressione è direttamente proporzionale alla capacità d'urto e di offesa degli apostoli. con questa frase, scenda la vostra pace, ritorni la vostra pace, in realtà è un eufemismo con cui nascondere una dichiarazione di guerra feroce e criminale. Basta leggersi la cronaca del lavoro dei missionari in Africa per capire esattamente il senso di questa affermazione. si tratta di una dichiarazione di guerra alla società civile, un'aggressione militare. L'aggressione è direttamente proporzionale alla capacità d'urto e di offesa degli apostoli. Non sono gli altri, la società civile, che muove guerra agli apostoli. Non è la società civile che dice agli apostoli o fate questo che voglio io o io vi ammazzo. Non è la società civile che pretende che gli apostoli aprano le loro case. Gli apostoli non agiscono alla pari con la società civile. Non vivono in essa. Non lavorano in essa. Non vivono le stesse contraddizioni della società civile. Gli apostoli sono esterni alla società civile e vivono piegando la società civile a sé stessi, esattamente come i missionari cristiani. Gesù ha imposto la guerra. Prima del cristianesimo non esistevano guerre per motivi religiosi. Prima del cristianesimo nessuno ha mai preteso che qualche persona rinnegasse la propria religione, né ha infilato ferro i roventi nel deretano di donne indifese per costringerle a confessare di non essere delle buone cristiane. Nessuna religione ha usato violenza per imporre se stessa. Mai. Prima del cristianesimo non era mai avvenuto. Per altri motivi si facevano le guerre, ma non per questioni religiose. Gesù è venuto a distruggere la pace e macellare l'umanità per il proprio piacere di distruttore. Solo macellando l'umanità i cristiani potevano imporre il cristianesimo. Predicano la fine del mondo, non una diversa organizzazione sociale per affrontare il futuro. Sono venuti per distruggere le società, non per edificarle. Devono riuscire a spargere il terrore affinché le persone siano indotte a invocare la fine del loro presente. In Africa, finché non arrivarono i missionari, non c'era la miseria, non c'era la povertà, la gente non moriva di fame. C'erano guerre, si combattevano, si prevaricavano, ma non c'era la miseria. Dovettero arrivare i missionari, saccheggiare le società civili, distruggere la cultura, distruggere la conoscenza del mondo, ridurre le persone in schiave, distruggere essenzialmente la cultura, la cultura che c'erano in quei paesi, ridurre le persone a una miseria morale e culturale tale da essere praticamente incapaci di affrontare da sole la loro vita. solo allora i missionari sono riusciti a creare la miseria, ma prima che arrivassero i missionari cristiani, i cattolici in particolare, la miseria in Africa non c'era, come non c'era nell'America Latina, come non c'era nemmeno in Asia. Lo spaccio dell'eroina è stata imposta dagli inglesi, è stata imposta dalla compagnia delle Indie con delle guerre feroci contro la Cina. Per cui prima di allora queste cose non c'erano, furono i cristiani ad imporre queste cose, per imporre la dipendenza. Di quante lacrime e sangue di milioni di uomini pacifici grondano le mani di Gesù. Gli apostoli non sono degni della società civile, devono agire come ladri nella notte, come missionari, assassini, criminali, hanno macellato milioni di persone. La compagnia che avevano in mano i gesuiti ha trafficato in centinaia di milioni, non in centinaia scusate, in milioni di persone spostandoli nelle Americhe, massacrandoli, torturandoli, facendoli prigionieri. Ladri nella notte che devono innanzitutto cercare qualcuno che si è disposto a farsi derubare qualcuno degno e di morare presso di lui. Demetra si fa ospite nella casa di Celeo, ma Demetra non ruba la sua ospitalità, né si impone, si offre di fare da nutrice al figlio di Celeo. Non pretende sotto omissione, si mette al servizio di, non cambia le regole della casa. Gesù invece deve cercare qualcuno di degno, qualcuno da ingannare. Chi è possibile ingannare è sicuramente una persona degna. Chi non si fa ingannare è sicuramente un feroce nemico, è la mentalità propria del cristiano, del cattolico in particolare. Qualcuno degno nel linguaggio cristiano è una persona compassionevole nei confronti del mondo, ma non sufficientemente attenta ai meccanismi del mondo, smaliziata, al punto tale da individuare il pericolo per la società in cui vive. Qualcuno le cui emozioni e i cui sentimenti possono essere incarcerati ed incanalati in funzione del benessere del proprio padrone. La persona che pratica la pietas non ha forse l'animo aperto al mondo che la circonda? Il compito degli apostoli è quello di stuprare quell'animo, chiuderlo al mondo ed aprire gli stessi sentimenti nei confronti del loro padrone. La questione viene precisata nel Vangelo di Luca. Infatti Luca dice, dimorate in quella casa mangiando e bevendo quello che vi sarà servito. Luca 17. Non serve, dice Matteo e Luca, che vi appropriate delle ricchezze del vostro ospite. Non serve che prendiate più di quanto il vostro ospite vuole darvi. Vi dovete impossessare del vostro ospite. È lui l'oggetto del vostro agguato. Dovete spostare l'attenzione, le emozioni e le aspettative del vostro ospite dalla pietas nei confronti della società in cui vive a Gesù, il vostro padrone. È Gesù come padrone che deve diventare l'oggetto della pietas soggettivata dall'ospite, non il mondo in cui quell'ospite vive. Succede a moltissimi cristiani di provare un sentimento astruggente di rivolgere al loro Gesù, mentre è solo la disperazione per essersi separati dal mondo in cui vivono. È solo la disperazione per non sentire più le voci della vita. Il loro animo è stato incarcerato e i loro sentimenti incanalati. Loro sono i degni o i possibili degni presso i quali gli apostoli dimorano. Entrando nella casa salutatela è un simbolo usato dai cristiani come baciare la terra. Se presso Roma Antica baciare la terra era baciare la madre, per i cristiani baciare la terra o salutare la casa significa è roba mia, roba mia, che non è inteso come proprietà privata in senso civile, ma come appartenenza alla propria fede, un po' come il battesimo che marchia il bambino che il cristiano rivendica come roba sua. Durante la visita di Voitila in Grecia i cronisti si stupirono che a Voitila fosse impedito di baciare la terra, come aveva fatto in tutti i suoi viaggi. Quel gesto gli fu impedito dai cristiani ortodossi greci. I cristiani ortodossi greci conoscevano perfettamente il significato religioso del gesto e loro non potevano permettere a Voitila di affermare simbolicamente che quella terra fosse roba sua. I cristiani ortodossi greci non potevano permettere a Voitila di affermare che la Grecia era roba sua, perché i cristiani ortodossi greci vogliono affermare che la Grecia è roba loro, non roba di Voitila. In ogni città, dice Gesù, ci sono degli individui che possono essere circuiti con maggiore facilità. Trovateli, dice Gesù, e dimorate presso di loro al fine di coinvolgerli nelle vostre attività e aiutarvi a diffondere l'idea che sta per arrivare alla fine del mondo e che voi siete coloro che può salvarli dalla distruzione eterna. Non dovete, dice Gesù, iniziare a fare la guerra a tutta la città, ma concentrate la vostra attenzione sull'individuo più fragile di quella città. Se quell'uomo vi ascolta ed accoglie le vostre parole, si lascia circuire e separare dalla società civile, siate in pace con lui, altrimenti ritirate la vostra pace e dichiaratelo nemico da distruggere. Riprendiamo la citazione da Matteo. Dice Matteo, 10, 11, 15. E se la casa ne è degna, scende la vostra pace sopra di essa. Ma se non ne è degna, ritorni la vostra pace a voi. Se qualcuno non vi riceve e ne ascolta le vostre parole, uscendo da quella casa o da quella città, scuotete la polvere dei vostri piedi. In verità vi dico, nel giorno del giudizio il paese di Sodome e Gomorra sarà trattato meno severamente di quella città. Matteo, 10, 11, 15. È importante comprendere come gli apostoli non vanno in una città a predicare il loro credo o le loro convinzioni religiose. Non ne hanno, non ne hanno proprio. Non mettono in piazza le loro idee discutendole con gli abitanti di quella città. Devo imporre l'idea della fine del mondo, spargere terrore ed angoscia per costringere gli abitanti in ginocchio davanti a loro. La cultura greca e quella romana accoglievano un Dio sconosciuto, un Dio diverso, ma non erano disposti ad accogliere l'angoscia e il terrore per sottomettere la società attraverso l'angoscia e il terrore. Da parte di Gesù si tratta di una vera e propria dichiarazione di guerra alla società civile, un tentativo di disarticolarla per appropriarsene. Gli apostoli arrivano e creano problemi alla società. Non arrivano in una società che ha dei problemi e propongono delle soluzioni, ma creano problemi conflittuali al solo scopo di imporre il terrore e l'angoscia per la fine del mondo. E quest'azione è del tutto logica. Proviamo a pensare a una società che sta combattendo per la propria sopravvivenza. Le forze psichiche degli individui sono tutte tese a risolvere i problemi che la investono e non sono disponibili ad accogliere predicatori che sono indifferenti alla situazione conflittuale in atto. Per gli apostoli è necessario trovare una città tranquilla, che vive la propria vita senza conflittualità. Una società che si può dedicare anche ad amenità. Quella città è pronta per gli apostoli, è pronta per accogliere la conflittualità che gli apostoli porteranno. Là dove c'è pace gli apostoli porteranno guerra religiosa. La guerra viene portata al singolo individuo. Non è il singolo individuo in quanto singolo individuo, ma è il singolo individuo in quanto parte di una città, di un sistema sociale. La frase viene retta da uscendo da quella casa o da quella città. Gesù è consapevole che la sua truffa e il suo inganno può essere individuato dal singolo individuo che mette in atto delle reazioni al suo tentativo di aggressione. Ma può essere che l'aggressione che Gesù porta al singolo individuo sia assunta, sentita come propria da tutta la città. E tutta la città cacci gli apostoli. Casa e città sono il singolo e l'insieme. Se capitola la casa può iniziare a capitolare la città. Qual è il grande delitto, la grande offesa che Gesù reputa di ricevere? Non essere ricevuto o non ascoltare le parole degli apostoli. Ricevere non significa entra che ti offro un caffè e arrivederci, ma significa entra buona, la mia casa è tua e io sono il tuo servo perché tu sei il rappresentante di Gesù, figlio del tuo padrone, come tale sei il mio padrone. Ascoltare le parole non significa ho ascoltato quello che dici, buona giornata, vado a lavorare, ma significa mi hai rivelato la verità della fine del mondo, ti prego salvami. Segue inginocchiamento della persona degna e consegna da parte della persona degna dei suoi averi agli apostoli perché l'operaio merita il suo nutrimento. Dallo scuotere la polvere dei vostri sandali al paese di Sodoma e Gomorra sarà trattato meno severamente di quella città? C'è uno spazio di relazione che va dal disprezzo diffamatorio e ingiurioso nei confronti di quella città alla distruzione totale della città col massacro dei suoi abitanti che sarà messo in atto sistematicamente dai cristiani. Quando l'angoscia e il terrore non vengono soggettivati, gli abitanti reagiscono cacciando gli apostoli. Ma che sciocchezze andate farneticando? Agli apostoli non resta che la violenza fisica, una violenza che può essere mascherata soltanto se con gli apostoli si schiera il potere civile con i poliziotti, i magistrati e le galere. Se il potere militare non appoggia l'azione degli apostoli, agli apostoli non resta che il disprezzo e l'ingiuria, scuotono la polvere dai loro piedi. Ma quel giorno che il potere civile si schiererà con gli apostoli, saranno leggi vessatorie, condanni a morte, stragi, genocidi, il paese di Sodoma e Gomorra sarà trattato meno severamente di quella città. Ed è quanto è avvenuto per esempio per l'Africa e i missionari. In Africa è stata distrutta l'Africa perché i missionari non solo arrivarono con le loro croci, ma arrivarono con i fucili, con le spade, con gli eserciti per imporre la loro religione, cioè con un potere civile che sorreggeva le loro azioni. Per esempio abbiamo 324, l'imperatore Costantino dichiara il cristianesimo è l'unica religione ufficiale dell'impero romano. Nella città di Didima, in Asia, minore, i cristiani saccheggiano l'oracolo del dio Apollo e torturano a morte i sacerdoti pagani. I cristiani sfrattano i gentili dal monte Athos e distruggono i templi greci locali. 326, l'imperatore Costantino inseguta le distruzioni di sua madre Elena, distrugge il tempio del dio Asclepio in Aegean, in Cilicia e molti templi della dea Afrodite in Gerusalemme, Afaka, Mambre, Fenis, Baalbek, eccetera. 330, l'imperatore Costantino ruba i tesori e le statue dei tempi pagani greci per decorare Nuova Roma, Costantinopoli, la nuova capitale dell'impero. 335, l'imperatore Costantino saccheggia molti templi pagani in Asia minore e in Palestina e ordina l'esecuzione per crocifissione dei praticanti di magia e gli indovini, lettori di sorte. Viene martirizzato il filosofo neoplatonico Sopatrus. Nel 341, l'imperatore Flavio Giulio Costanzo perseguita tutti gli indovini e gli ellenici pagani greci, molti gentili, sono imprigionati o giustiziati. Come vedete, si fa presto a passare da scuotere la polvere dei sandali, cioè in pratica ingiuriare, difamare e offendere le persone alle stragi e al genocidio. Le stragi, ordinate da Gesù, arrivano appena i cristiani e avranno la possibilità, dopo aver appoggiato strage su strage, nell'attesa del fine del mondo. Ciò che era scuotere la polvere dei piedi diventa il giorno del giudizio, il giorno della strage. Gesù è il mandante delle stragi. È Gesù che ordina le stragi per odio contro le società civili, che non si mettono in ginocchio davanti a lui. E quello che abbiamo commentato ora è Matteo 10, 11, 15, cioè la terza parte di quelle che sono le istruzioni agli apostoli date in Matteo da Gesù. Naturalmente le parti sono 15-16 che arrivano fino a Matteo 10, 40-42 e sono una serie di indicazioni militari di distruzione della società civile. Le analizzeremo un po' alla volta, le svilupperemo un po' alla volta, di settimana in settimana, proprio per far capire come questo Gesù di Nazareth in realtà sia un criminale, un assassino che porta la responsabilità della distruzione nel tutto il corso della storia. Purtroppo gli anticlericali e gli atei tentano sempre di separare quello che è la figura di questo criminale, Gesù di Nazareth, da quello che è invece il comportamento dei papi cristiani. Come se la gerarchia cristiana, la CEI, il Bagnasco e il Ratzinger nel corso dei secoli non avessero conosciuto esattamente quali erano le indicazioni di questo criminale che è il Gesù di Nazareth. Certamente Gesù di Nazareth non è mai esistito, però esiste questa dottrina di morte e di distruzione che se non viene analizzata esattamente per le indicazioni che dà, tenderà sempre a riprodurre la distruzione delle società civili nelle quali noi stiamo vivendo. Bene, la prossima settimana prenderò un'altra istruzione di Gesù agli Apostoli e vi farò un'altra trasmissione. Vi ricordo che questa trasmissione è la trasmissione Magia, Stragonaria e Paganesimo. Io sono Claudio Simeoni, Piazzale Parmesan Otto Marghera e vi ricordo anche l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo e Studi Poliseisti, Casella Postale 53, Marostica, Vicenza. Ciao a tutti e a risentirci alla prossima trasmissione. Ciao.